Allora Del Vecchio, c'è un puzza un po' di inciucio per questo Grizzly? Noi abbiamo fatto una serie di richieste già da marzo, chiedendo al Sindaco, alla Giunta di dare delle risposte al Consigliere Comunale ma alla città, perché tanto per citare un evento molto recente, allo chalet si è fatto chiudere, non ci si fanno andare i giovani e qui fanno in questo centro che è il Grizzly al Vallato, ci fanno i concerti. Allora ci sono cittadini di serie A che possono fare tutto, ci sono cittadini di serie B ai quali non si concede nulla e si applica in maniera troppo rigida i regolamenti. Abbiamo detto alla Giunta e al Comune, guardate che stanno facendo attività politica, guardate che quindi non si può fare in locali pubblici che il Comune concede, stanno facendo attività commerciale, stanno facendo concerti, quindi verificate perché se sono queste le condizioni non hanno i requisiti per rimanere lì. Non ci hanno risposto, ci hanno negato i documenti, noi siamo anche intenzionati ad andare avanti, quindi andare a chiedere al Prefetto e alle autorità competenti che ci concedessero le risposte che sono obbligate a darci. Nel frattempo fanno una delibera nella quale dicono siccome dobbiamo fare il progetto del Parco Futuro che ci vedrà fra dieci anni, intanto vi diamo una disdetta al 31-12-2017. Quindi rimanete lì fino al 31-12-2017 e poi si vedrà. Questo è un po' il senso dell'atto di indirizzo perché è una delibera di atto di indirizzo, quindi di poca sostanza. Per cui ritorneremo di nuovo sull'argomento perché non si possono avere cittadini di serie A e di serie B ma soprattutto non ci si può vantare di avere il braccialetto bianco dell'Associazione Libera per la trasparenza e poi fare le cose senza trasparenza, senza legalità ma soprattutto fare atti che sono palesemente sanati da condoni e sanatore che sono state fatte qualche mese fa quando proprio sia nel braccialetto bianco di Libera ma anche nel codice etico che è stato sottoscritto dai consiglieri comunali c'è scritto in maniera chiara che non si devono fare condoni o sanatore. Invece qui ad alcuni la si fanno, ad altri invece questo sindaco non le vuole concedere.